Ho chiesto di intervenire la consigliere Assensoli. Grazie Presidente. Le risoluzioni presentate presentano dei profili di illegittimità costituzionale che sono già stati rilevati ed evidenziati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 195 del 93 e 346 del 2002. La legge regionale 20 del 92 della Lombardia, infatti, norme per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose prescriveva per le confessioni religiose non cattoliche quali a requisito di ammissibilità ai benefici della legge la sussistenza della previa intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo coma della Costituzione. Ugualmente disponeva la legge 29 dell'88 dell'Abruzzo. Con riguardo alla legge dell'Abruzzo, la Corte Costituzionale aveva affermato che l'individuazione delle aree destinate ai luoghi di culto e delle attrezzature per servizi religiosi ha per effetto di rendere concretamente possibile e comunque di facilitare le attività di culto che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'articolo 19 della Costituzione. Con riguardo alla legge 20 della Lombardia, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 346 del 2002, ha ribadito i principi affermati nella precedente sentenza che avevano condotto a dichiarare l'incostituzionalità della legge. Cito dalla sentenza, tale ragione di incostituzionalità trova applicazione anche nel presente giudizio, le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato, per gli aspetti che si collegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune. Non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. In questa prospettiva, tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'articolo 8, terzo della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può, quindi, costituire l'elemento di discriminazione nell'applicare una disciplina posta da una legge comune volta ad agevolare l'esercizio di libertà dei cittadini. Ora, altresì comunque riconosciamo che una inadeguata regolamentazione delle concessioni inerenti ai luoghi di culto o un'incongruenza tra le concessioni e le effettive destinazioni d'uso possa creare, oppure ha già creato in passato, dei problemi di sicurezza legati prevalentemente al sovraffollamento dei locali in cui avviene la professione del culto. Ci riferiamo naturalmente, parlando di sicurezza, all'incolumità delle persone, non volendo scendere in luoghi comuni e associare automaticamente la religione islamica a concetti di violenza o inciviltà. Quindi, piuttosto, noi chiediamo alla Giunta di adoperarsi in modo tale da garantire che i luoghi assegnati a tutte le professioni religiose rispettino i canoni di sicurezza prescritti per legge e, eventualmente, impegnare gli enti locali ad effettuare i dovuti controlli riguardanti la congruità tra destinazione d'uso ed effettivo utilizzo dei locali. Grazie.